Prosegue il progetto lettura promosso dalla scuola Amelia Giuseppe Denitis di Berletta attraverso il quale avvicinare gli studenti all'amore per i libri dai quali partire nella riflessione ed approfondimento di temi attuali e importanti. Di scena incontro con l'autore Lino Patruno e il suo libro Io resto al sud. Il Mezzogiorno d'Italia è una terra ricca di bellezze e risorse da scoprire e valorizzare ma anche di opportunità affinché non sia un luogo da cui andar via ma al contrario di cui essere orgogliosi. Una riscossa affidata ai ragazzi e alla loro determinazione e potenzialità per migliorare il sud ed appropriarsi del proprio territorio. La speranza vera è affidata a loro perché possano loro contribuire con la loro tenacia sapendo che la strada non è semplice ma comunque con la loro tenacia possano contribuire a rilanciare il sud e rendere l'Italia realmente unita. Io resto al sud. Cerca di guidare, informare e far ragionare gli studenti di scuola media sul loro presente e sul loro futuro attraverso vivaci spunti di attualità, cultura ed economia. Li conduce inoltre a comprendere come si sia creata l'attuale situazione del sud cioè perché il sud è un po' meno sviluppato rispetto al resto del paese raccontando una storia non sempre raccontata. Li convince che l'Italia potrà crescere solo puntando sul sud e sui suoi protagonisti di domani a cominciare da loro rimanendo al sud. Noi dobbiamo convincere i ragazzi che il sud non è solamente un deserto in cui non ci sta niente da fare, non è solo un posto dal quale bisogna andare via non è solo un posto nel quale non si trova lavoro. Certo ci sono problemi, molti ragazzi vanno via ma questo non significa che sarà sempre così non significa che il sud sia un posto dal quale solamente scappare. ci sono mille occasioni, ci sono cose che non si conoscono bellezze che gli stessi meridionali ignorano e ci sono anche possibilità di lavoro soprattutto legate all'uso di internet all'uso delle nuove tecnologie ci sono ragazzi che hanno deciso di restare altri che tornano e che si inventano dei lavori da fare si mettono insieme, fanno delle cose insomma il deserto del sud può attendere ci sono molte possibilità certamente non è il momento migliore, non è il posto migliore d'Italia ma ci dobbiamo abbattere anche per questo perché il sud sia potenziato di tutte le infrastrutture di tutto ciò che gli serve per poter fare da solo e per poter consentire ai suoi ragazzi di rimanere qui e di contribuire, come dice il libro, a farlo ancora più bello.